Il giornalerà, il Vivi di Centro Network Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network Direttore Mario Vollonu 3 arresti per l'omicidio di Vincenzo Cordi L'uomo fu ucciso tra il 12 ed il 13 novembre del 2019 nella Locride Il suo cadavere fu trovato carbonizzato nelle campagne di San Giovanni di Gerace Un comune della città metropolitana di Reggio Calabria Dall'autopsia emerse che quando fu dato alle fiamme era ancora vivo Sul grave fatto di sangue hanno fatto luce i carabinieri di roccella ionica che questa mattina Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri Hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Il tribunale di Locri nei confronti della moglie SB 43 anni Il figlio FS 22 anni nato dal primo matrimonio di lei e l'amante della donna GM 41 anni Tutti di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria Termina così il nostro momento di informazione Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno Sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive Grazie a tutti